Cazzo, hai capito? In un secondo tu sei su una lontana per dire... Voglio essere egoista ho voglia di fare queste cose perché sono un attore i segni di quella esperienza possibile e lui ha rimontato... Siamo qui perché siamo attori e vogliamo agire e tu ci stai togliendo questa possibilità perché abbiamo bisogno dell'antefatto se no non te la fa Mi fai male Tu leghi in un modo particolare Mi fai male